The Steel è il nome di un gruppo di artisti quasi tutti olandesi e di un giornale che ne esprimeva gli ideali. Era un'associazione libera che si basava sul sostegno di Theo van Densburg. Il giornale venne fondato da van Densburg e Mondrian nel 1917 e van Densburg continuò a pubblicarlo fino al 1928. L'ultimo numero, il 90, venne pubblicato nel 1932 dalla moglie di van Densburg in memoria del marito morto nel 1931, anno in cui il gruppo si sciolse. All'inizio il giornale era esclusivamente dedicato al neoplasticismo ma il dada cominciava a farsi avanti. Oltre a Theo van Densburg nel gruppo aderirono pittori come Mondrian, scultori come Georges van Tongerlo e l'architetto designer Gerrit Thomas Rietveld. Il gruppo venne fondato nel 1917. La città di origine di The Steel è Leida. Il loro scopo principale consisteva nel trovare dei principi comuni di equilibrio e armonia da applicare alla vita, alla società e anche all'arte e il loro stile di vita era di una chiarezza rigida e astratta. The Steel fu, con ogni probabilità, la più influente di tutte le pubblicazioni d'avanguardia nell'Europa tra le due guerre mondiali. Ebbe grande influenza tuttavia più in architettura e nelle arti applicate che in pittura e scultura. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!